Oggi pennarelli nuovi Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video proprio shue shue Da oggi alla Lidl trovate questi Guardate, vi ricordano qualcosa? Io appena li ho visti sul catalogo vi hanno subito ricordato qualcosa Vi faccio vedere cosa? I miei amatissimi e costosissimi sciarpi Allora sono andata alla Lidl e ne ho prese due confezioni Perché volevo provarle E ho detto mal che vada, mal che vada li uso come dei pennarelli normali Saranno all'altezza dei blasonatissimi sciarpi? Beh, vediamolo insieme e subito dopo vi dico le mie considerazioni Spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a fare questa prova su strada comparata Oggi andando alla Lidl ho trovato i marcadores permanentes della United Office A 4,99 euro e a meno di 2 euro 4 marcatori permanenti neri Non ho potuto non prenderli perché il packaging mi ricordava tanto qualcosa Vi faccio vedere cosa mi ricordava il packaging Non sono simili? Bene, se sono come gli sciarpi ho fatto l'affare della vita Adesso li proviamo insieme e li compariamo E vediamo se possiamo risparmiare un bel po' di soldini Apro insieme a voi la confezione Eccoli qua Prendo un bel foglio di carta Per testare questi colori uso un blocco Accademia Che ha una carta di una media assorbenza Perché una carta per tecniche bagnate Di conseguenza molto assorbente Ma nello stesso tempo ha una grana ruvida molto fine Cominciamo subito Allora comincio a fare i quadratini colorati Dopodiché vi dico alla fine le considerazioni Do una sola passata Quindi io di solito quando uso questi pennarelli Passo una volta e ripasso due volte In questo caso proprio per vedere la gettata del colore Passo una sola volta Molto bella questa frangia incarnati Allora cosa penso Ah poi c'è il pennarello permanent marker Nella confezione di cartone Questa è la punta fine per contornare Voilà Molto bello anche questo Allora Una punta grossa È una 8 Cosa dire Devo dire che sono molto belli Alla prima passata subito molto vividi Quello che mi salta subito all'occhio È che non lasciano la striatura del passaggio della punta La punta è abbastanza morbida Sebbene molto lineare Molto ben strutturata Come potete vedere Non si affloscia il passaggio Non è troppo feltrosa Ecco Cosa che per esempio a me non piace particolarmente degli sharpie Perché dopo un po' di utilizzo si spelacchia la punta E non lascia come vedete Nessuna traccia di zig zag del passaggio I colori sono molto vividi E si stabilizzano pochi secondi dopo averli passati Diventano più belli dopo qualche secondo Questa è una caratteristica comune anche con gli altri pennarelli Belli Diciamo Quasi tutti Molto simili al colori del tappo Tranne questi In cui questo ciclamino è dato dal viola più scuro E invece questo è molto fedele Io pensavo che questo fosse un viola più carico Per questo nella scala cromatica l'avevo messo dopo Quindi state attenti Fatevi sempre un'idea dei vostri colori 1,4 ml per pennarello Molto molto carino Adesso compariamoli con gli analoghi di lusso Diciamo così della sharpie E cominciamo Anche qui una sola passata Vedete quando vi dico La punta feltrosa Ecco Lo sharpie dopo che si usa un po' Diventa Si rovina Diciamo un pochino Ma forse anche questi E soltanto che sono nuovi Stesso problema anche qua I violetti Diciamo che questo è più fedele Ma questo proprio sfalza Vira sul ciclamino E questo diciamo che sta in mezzo E due Ma non ho un corrispettivo di questo Perché questo proprio si pone in mezzo Andiamo a tirare le somme del nostro lavoro Vi parlerò prima dei United Office che ho preso alla Lidl Devo dire che hanno un buon potere colorante Sono molto belli al passaggio Ma abbastanza fedeli ai colori dei tappi Ma soprattutto come vedete Non lasciano la striatura Quindi su carta si comportano molto bene Direi anche meglio degli sharpie Vi faccio vedere Che invece su carta Fanno intravedere l'andamento del pennarello Non so se riuscite Vi avvicino un po' Quelli sopra sono quelli della Lidl Quelli sotto sono gli sharpie Vedete gli andamenti della coloritura? Qui si vedono Mentre su quelli della Lidl no C'è da dire che però Gli sharpie hanno una carica cromatica Più forte Più immediata E che ci sono Delle differenziazioni tonali Molto interessanti Per esempio si passa da questo blu A questo Cambiando totalmente il tono Mentre qui diciamo che c'è una gradazione Più o meno sempre in tono Quindi questo può dare maggiore varietà Alla coloritura Da dire c'è anche che Su carta si comportano bene entrambi Non posso dire che Un pennarello sia migliore degli altri Perché le qualità si compensano Per chi sa disegnare bene Questo problema del passaggio del colore È facilmente superabile Certo il prezzo è molto differente Ma è anche vero che gli sharpie Non si comprano per colorare sulla carta Ma si comprano soprattutto Per colorare su altre superfici Tipo la porcellana Tipo la plastica Quindi superfici differenti Che adesso noi andremo subito a provare Vediamo vediamo Prendo un tappino in plastica O questo della Nutella Toh a caso E comincio proprio col nero Vediamo il faccio un pallino E niente di più Un pallino nero E devo dire che la resa Di questi Colori Della Lidl Non è niente male Metto accanto Il mio sharpie Voila Ma devo dire che se la cavano bene entrambi Proviamo che ne so Proviamo i blu Prendo due blu simili Questo è lo sharpie E adesso prendo Quello della Lidl E lascio asciugare Prendo i rossi Il rosso sharpie E una potenza Già lo so Allora provo sempre Metto un trattino Su quelli Della Lidl Provo sempre Prima questo Della Lidl Lo metto accanto Il suo nero Metto il trattino E adesso provo Lo sharpie Come vi dicevo Gli sharpie Hanno una potenza cromatica Maggiore Anche sulla plastica Ma comunque La vividezza È bella In entrambi E adesso provo Un colore chiaro Un giallo Quindi provo Prima lo sharpie Che non segnerò Col pallino Voilà E adesso Provo Quello Della Lidl Voilà Ultima prova Provo anche Il permanente Quello che servirebbe Per i contorni Che è bellissimo Però Vira un po' Sul blu Questo ve lo devo segnalare E allora Questa è la potenza cromatica Quelli col Trattino rosso Sopra Sono quelli Della Lidl E quelli Senza trattino Sono gli sharpie Ecco qui Me li metto così Hanno vivacità Ma gli sharpie Sulle superfici plastiche Hanno maggiore pienezza Tutti Tranne il nero Ma posso imputare Questa cosa Dal fatto che il mio Nero sharpie È molto utilizzato Anche da Enzo Che me l'ha veramente Spampinato Me l'ha veramente Distrutto E allora Devo dire Ottimo prodotto Per il prezzo Che ha Tant'è che io Ne ho prese due confezioni È un ottimo prodotto Naturalmente Non ha tutte le certificazioni Che potete trovare Sugli sharpie Certo magari Non sono più adatti Ai bambini Ma per gli adulti Devo dire che Li ho trovati Abbastanza agevoli E non hanno Nessun tipo Dal punto di vista Proprio Olfattivo Di odore Assurdo Ecco Non penso di morire Perché mi sono macchiata Con questo pennarello Penso che siano Delle cose Che debbano essere scritte Cose che Naturalmente Sugli sharpie Non ci sono E non c'è Nessun tipo di specifica Sulla loro composizione Quindi Non so se Provengano Da diverse normative Di produzione Ma così è Qui non c'è Nessun tipo Di specifica Questo è Se dovete Disegnare Su carta Io li trovo Veramente Buoni Facciamo adesso La prova Acqua Vediamo se reggono Veramente All'acqua Prendo Il mio bel pennello E sul rosso Passo Una quantità Di acqua Pazzesca Sia sul rosso Sharpie Che sul rosso Di questi altri colori E devo dire Che sì Entrambi Tengono Molto bene L'acqua Molto Molto bene A questo punto Però Sapete Io sono Una personcina Curiosa Voglio fare Anche la prova Retro E come vedete Traspaiono Tutti e due Sul retro Alcuni colori Di quelli Della Lidl Un po' di più Ma altri no Perché sapete Alcuni mettono Le certificazioni Altri non mettono Le certificazioni Però Io anche voglio Capire Di che cosa Sono fatte Le cose Sapete che io Ho questo strano vizio Di voler capire Le cose Allora Prendo Un pochino Di alcol Che come vedete Senza che ci Spaventiamo troppo Agli stessi Pericoli Che sono segnati Sul pennarello Lo intingo Nell'alcol E vediamo Se gli sciarpi Si solubilizzano No Non si solubilizzano Ma cambiano colore Quindi vedete Vengono Si Si Sciolgono Diciamo No Si 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 solubilizzano Ma non tengono Un Una fluidità Come acquerello Lo vediamo invece Questi Uguale Si comportano Alla stessa Identica maniera Si spandono Più gentilmente Devo dire Altra prova Queste prove Voi non fatele Le faccio io Per voi Prendo Un solvente Per le unghie Senza acetone Tra l'altro Metto dentro E passo Sullo sciarpi Anche qui Variano i toni Vedete Passo anche Sull'altro E anche qui Variano i toni Quindi si Sono solubili Ad acetone Ed alcol E non ad acqua Bene Questo è quanto Vi ho raccontato Tutto quello Che sono riuscita A devincere In pochi secondi Da questi colori Se vi interessano Sono bellissimi Soprattutto Sono bellissimi E vi aspettano Alla Lidl Fatemi sapere Che ne pensate Grazie per essere stati Con me anche oggi Da ombretta E da arte Per te è tutto Ci vediamo Al prossimo video Ciao Allora Alla fine Di questa lunga vicenda Cosa posso dirvi Sono devo dire Comunque molto buoni Mi hanno fatto Una tavoletta Colore Che non ha Nulla 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 Da invidiare Agli sciarpi Vivacità Brillantezza Coloritura forte Questa è un'altra Rispetto a quella Che vi ho fatto vedere L'ho rifatta Perché lì Ho fatto le prove Con il colore Di conseguenza Si era rovinata Devo dire Molto molto Bella Molto belli Molto vividi Si comportano Sicuramente Meglio su carta Che non sulle superfici Ma anche se Sulle superfici Plastiche Si comportano Anche molto bene Li consiglio Sì Sono dei buoni Pennarelli Oggi come oggi Mi pare strano Che portino Tutti questi Disclaimer Ma io penso Proprio che sia Per il fatto Che siano solubili In alcol Non voglio azzardare Però teorie Perché non è il mio campo Usandoli Non ho avuto Un sentore Di massima Pericolosità Nell'usare Questo pennarello Non di meno Vi dico Però essendoci Disclaimer Non dateli Ai bambini piccoli Non dateli I propri bambini Ma per gli adulti Usati con cognizione Di causa Come si usano Centinaia di migliaia Di cose Che sono pericolose Nel mondo dell'arte Ecco L'acqua raggia I diluenti I solventi I colori Ad olio Stessi I pigmenti Stessi Qui A seconda Dell'utilizzo Che ne date Quindi Se volete Provarli Ecco Non fatevi Spaventare Da questi Segni Che vengono Sono messi Più per crepe Cauzione Che non Per secondo me Secondo me Secondo me Detto tre volte Per effettiva Pericolosità Io trovo Che questi colori Siano fantastici A 4 euro e 90 Superlativi Certo Non rinuncerò mai Ai miei sciarpi Perché gli sciarpi Sono una sicurezza Nella coloritura Di materiali Altri Come le ceramiche Come i materiali Plastici Hanno una gettata Di pigmentazione Pazzesca Ma non a caso Hanno un costo Di gran lunga Superiore Diciamo che Questi mi permetteranno Di conservare Per le cose importanti Gli sciarpi Ed utilizzare Per le cose Più da tutti i giorni Questo tipo di pennarelli Ecco È un modo Per ottimizzare Le spese Piuttosto che Comprare 5 pacchi Di quelli Ogni anno Magari riuscirò A comprare due Perché Per le altre cose Usano questi Più a buon mercato Quindi non è una sostituzione Ma è un modo Compendiario Di usare Dei materiali Che secondo me Sono validi Entrambi In diversificati modi Bene Spero abbiate capito Il senso Di questo video Lavoro sempre Per farvi cercare Di capire Come strutturare Meglio Un vostro studio Un vostro ambito Lavorativo Intendo per lavorativo Anche ubistico Naturalmente Un vostro luogo Dove possiate Avere tutto E dove possiate Avere anche Una differenziazione Di materiali È importante Avere una differenziazione Di materiali Per poter Risparmiare Paradossalmente Perché il nostro È un mondo Che costa parecchio E di conseguenza Avere gli strumenti Giusti Per il giusto Per il giusto Utilizzo È una cosa Molto importante O licenzo E condivisione Se questo video Vi è piaciuto E se vi piace Che io Ogni tanto Prenda qualcosa A buon mercato E ve la faccia vedere Fatemelo sapere Qua sotto Tra i commenti O se trovate inutili Questi video Fatemelo sapere Altri Ma con gentilezza Sempre qua sotto Tra i commenti E noi ci vediamo Sempre qua Per un prossimo Video creativo Da ombretta Ed arte Per te È tutto Alla prossima volta E se non siete passati In libreria A comprare Ricettario dell'arte È oggi Il momento giusto Ciao Un bacio a tutti